Per settimana Sport Media siamo con Luca Gulla, allenatore della Superba. Allora Luca, diciamo direi alla fine dei conti, due belle squadre che hanno giocato una partita anche direi dal mio punto di vista maschia, però un punto diciamo che è importante che vi permette sempre di restare in alto in classifica. Sì, sì, una buonissima partita da entrambe le squadre, moltissima intensità, secondo me si poteva paragonare quasi come intensità una partita di promozione. Sì, veramente due belle squadre, abbiamo giocato a viso aperto tutte e due e sono soddisfatto. Sì, hai detto una cosa giusta, due squadre che possono diciamo anche ambire a campionati più alti, difatti io vedo anche i campionati di promozione, devo dire queste due squadre ci potrebbero stare senz'altro. Ad ogni modo fino adesso sei soddisfatto direi della posizione classifica della tua squadra? Sì, sì, sono soddisfatto, non ci mancherebbe altro, dobbiamo lavorare, continuiamo a lavorare e cerchiamo di fare il meglio partita per partita. C'è da migliorare tanto a livello di gioco, però siamo sulla buona strada. Ok, grazie Luca, ciao, alle prossime.